Ciao a tutti e a tutti! Non mi spaventate, sì ho cambiato colore di capelli, se seguite già il canale dei vlog l'avrete visto, ma questo video è dedicato a tutt'altro ed è dedicato a un progetto che Neve Cosmetics mi ha proposto ed è un progetto che è mirato ad aiutare tutte quelle associazioni che si occupano del benessere dei nostri amici a quattro zampe. Sapete che io ho un cane e ho avuto vari animali comunque e sono molto devota a questa causa, sono molto fiera delle persone che riescono a salvare anche solo un animale dalla strada e portarlo, curarlo e insomma, secondo me è una bellissima idea. Neve mi ha quindi proposto di fare questo video con tutti i loro prodotti che se ancora non li avete mai provati o non avete mai sentito questo marchio, vi lascio il link qua sotto. Sono prodotti che hanno una formulazione vegetale, quindi non sono testati su animali, cruelty free e anche le fragranze sono naturali. Quindi a parte che hanno un incis spettacolare, ma sono proprio prodotti che sono stati creati per sempre il filone di questa causa. Sinceramente sono molto felice di partecipare a questo progetto e di seguire Neve da tanto tempo, perché è un marchio che a prescindere da tutto mi piace un sacco, mi piacciono un sacco i loro prodotti con cui ho realizzato anche il trucco di oggi. Ho utilizzato la linea permanente che trovate sempre sul sito e la nuova linea Mutations che adoro follemente, che è composta da vari ombretti, io ho questa palettina, ce ne sono altri due di ombretti in realtà, questa qui, e varie pastello le matite famosissime di Neve che poi vedrete durante il video. Quindi tramite questo video fondamentalmente la Neve andrà a donare a mio nome una somma di denaro ad una di queste onlus per il benessere degli animali. Quindi sono emozionatissima e felicissima di mostrarvi questo look, che è il look che ho pensato poteva essere quello che mi rappresentava al meglio. Infatti questo progetto si chiama proprio Neve Personality. Ringrazio ancora Neve per questa possibilità, perché ripeto mi sta tanto 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 a cuore. Detto ciò io vi lascio il video tutorial, spero vi piaccia, iscrivetevi e mettete un pollice in su se questo video vi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 No 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 Grazie a tutti Grazie a tutti